L'accordo di partenariato che abbiamo sottoscritto e che oggi ribadiamo inizia a muovere i suoi passi operativi, cioè quello di tracciare il più grande cammino d'Europa, un cammino che noi vediamo come un'azione di sviluppo territoriale, di grande spinta per il turismo recuperandolo la nostra identità che c'è in tutte le regioni italiane o nella sagrande maggioranza di esse, nonché in molti paesi d'Europa e grazie all'opera del Presidente Ciambetti riusciremo a portare all'attenzione dei ministeri competenti la richiesta dei necessari finanziamenti per realizzare questa infrastruttura.